E' ancora qui, questa edizione sociale delle Veneti Santa è stato portato a voi da Chimringer TV International. Noi speriamo che in questa ora abbiate vissuto qualche momento speciale, insieme a noi ricordando l'importanza di questo giorno, e che la Santa Pasqua, prima o nuova, deve ricordarci il sacrificio del nostro Signore. Questo poi è la gioia che ci porta il giorno di Pasqua. Per noi è tutto, vi ringraziamo per la potenza di attenzione e mi chiamo il tuo momento a domani sera, di un anno della settimana alle 11.30. La nostra ora è qui vi augura vuoi tu seguiti di strada e a domani sera. I personaggi in vita indossano l'abbigliamento di Cino Spascio, situato al 27 di World Head Road, a Uwe Bridge. I personaggi in vita indossano l'abbigliamento di Cino Spascio.